Da sindacalista cerco di difendere i diritti delle persone e ogni persona ha diritto di fare quello che si sente, giustamente. Io posso innamorarmi di una donna come posso innamorarmi di un uomo come una donna può innamorarsi di una donna. L'amore non ha confini, l'amore deve essere libero. Di conseguenza non vedo perché ci sono questi pregiudizi. Vorrei ma non posso.